Sarà la Cospin SRL unipersonale di Catania ad eseguire il restauro e la rifunzionalizzazione del santuario Santa Croce Scala Cieli Letto Santo di Santo Stefano di Camastra. È stata la sovrintendenza dei beni culturali di Messina a bandire la gara. Il progetto esecutivo, per oltre 2 milioni di euro, prevede la valorizzazione e la fruizione attraverso un'adeguata rifunzionalizzazione, recuperando il vecchio monastero benedettino di origine normanna e puntando alla creazione di un centro studi teologici e filosofici, realizzando in una fase successiva un piccolo osservatorio astronomico. L'ex monastero benedettino, oggi meta di pellegrinaggio e di turisti per la suggestione dei luoghi, insiste su una superficie complessiva di circa 3.000 metri quadrati. Con la decisione di rifunzionalizzare e restaurare l'ex monastero benedettino di origine normanna, la curia arcivescovile di Patti ha voluto rivendicare la legittimità di tale struttura, un immobile di grande valore storico, artistico, culturale, interessante non solo per Santo Stefano di Camastra, ma per tutto il comprensorio. Diventerà un centro di spiritualità, per quanti alla ricerca di tranquillità e riflessione, lontano dalla quotidianità, decidono di soggiornare in questo luogo. La ditta di Catania eseguirà i lavori per un importo superiore ad 1.500.000 euro. Altri lavori sono stati disposti quest'anno dalla sovrintendenza di Messina per la cavea del Teatro Greco di Tindari. Si tratta di un intervento di manutenzione per circa 40.000 euro. Se l'è aggiudicato la ND SRL di Leonforte. Altro intervento di manutenzione al Teatro Greco di Tindari riguarda la biglietteria, gli uffici, i depositi e gli ambienti collegati all'area archeologica. Se l'è aggiudicato la cooperativa Megaedil di Patti.